Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini dice io non mi dimetto. La Lega all'8%, quanto ha chiuso esattamente? Prima di dire vediamo esattamente la Lega a quanto ha chiuso? All'8,86%. Al Senato e alla Camera ha chiuso all'8,78%. Quindi dicendo che la Lega è all'8% non sto sbagliando. No, è all'8%. Che cosa succede? Che è un tracollo della Lega A. Il vero perdente di queste elezioni è Salvini. C'è un vertice dei governatori o presidenti di regioni della Lega per l'analisi del voto. Molti commentatori non hanno capito, forse non hanno capito neanche i governatori della Lega, non hanno capito tanti politici, che la Lega è padronale. Attenzione, questa non è la Lega di Bossi. La Lega di Bossi è rimasta in vita, legalmente, per pagare i 49 milioni di euro che sono spariti. Devono pagarli a rate, mi sembra, per 80 anni. Il problema è che la Lega di oggi è stata fondata da Salvini. Lui ne è il proprietario, ha depositato il marchio, il notaio. È sua. Cioè, Salvini non può essere cacciato da nessun governatore, da nessun congresso, perché è un partito padronale. È un po' come dire facciamo un congresso e mandiamo via Berlusconi, che non sarebbe male. Oppure facciamo un congresso e mandiamo via Lameloni. No, questi sono partiti padronali. Mentre il PD ha un segretario che viene rieletto ogni tot di anni. E quindi il PD non è un partito di qualcuno. È un partito che si autogoverna con dei segretari, eccetera, eccetera, con dei congressi. Molto diversi sono questi tre partiti che vi ho detto, fra cui la Lega è un partito dove Salvini è il proprietario. Può essere mandato via. No, no. L'unico modo per andare via è che lui se ne vada. Cioè, lui dica mi dimetto e lascio il mio partito che ho fondato e vado con Di Maio ad aprire la pizzeria che doveva essere da Giggino un ministro, diventerebbe da Giggino un capitano i ministri. Dai ministri Giggino e Salvino, non lo so. Comunque potrebbe aprire una pizzeria a Napoli, magari vicina a quella del Grande Fratello, come si chiamava di quello che aveva aperto una pizzeria. Vabbè, potrebbero aprire una pizzeria a Pomigliano d'Arco da Luigi e Matteo. Da Luigi e Matteo i ministri. Va bene, a parte gli scherzi, Salvini lascia la Lega e che fa? Va a fare domanda al supermercato sotto casa per mettersi alla cassa col camice bianco con scritto cassiere qua? Paga in contanti o col banco, Matt? Bip, bip. No. Ecco. Salvini, col suo partito, che abbia l'1, il 2, il 3, il 5%, rimarrà lì. Rimarrà lì. Cari governatori, che non governate una fava ma siete presidenti di regione, perché non siete dei governatori di uno stato come il Texas, la California, siete dei presidenti di regione. L'Italia ha una suddivisione amministrativa. Voi non governate una fava. Non governate una fava. Voi siete presidenti di regione, suddivisione amministrativa. Le regioni non sono nient'altro che una suddivisione amministrativa e niente di più. Ricordatevi che non governate un bel nulla. Questo per farvi capire che, scendete dal pero, che non siete niente, niente mescolato col niente. Come dicono in Sicilia, niente ammiscato con niente. Pertanto è in programma nel pomeriggio un vertice di tutti i governatori ancora, presidenti di regione della Lega, per l'analisi del voto, delle politiche, che in regioni come Veneto, Lombardia e Friuli, Venezia e Giglio, ha visto Fratelli d'Italia sorpassare largamente la Lega, sorpassati anche dal PD che è sceso il 18%. Lo si apprende da fonti qualificate. La riunione che si svolgerà con i presidenti in collegamento da remoto segnerà un primo punto politico degli amministratori della Lega prima del Consiglio federale previsto per domani a Milano. Zaia dice, risultato deludente, ora analisi seria sulle cause. Farei fare un'analisi a Crozza, Crozza che imita Zaia, sarebbe più divertente. Il voto degli elettori va rispettato perché, come diceva Rousseau, nel suo contratto sociale il popolo ti delega e a rappresentarlo. Quando non lo rappresenti più ti toglie la deliga. Ma che profondo concetto, mi vengono i brividi. Tu politico rappresenti il popolo e se il popolo non ti voti non lo rappresenti più. Ve lo siete scritto? Scrivetelo perché è importante. Questa è una frase, un concetto che bisogna proprio... Caro Zaia, dovevi proprio dire alla stampa questo profondo concetto? Il popolo ti delega a rappresentarlo, ma se non ti veota ti toglie la delega. Mamma mia, mi ha perturbato la giornata. Cioè, una frase così mi segna, mi segna, insomma. Dice che è innegabile come il risultato ottenuto dalla Lega sia assolutamente deludente e non ci possiamo omologare a questo trovando semplici giustificazioni. Il tuo capo, Salvini, ha detto che praticamente non è colpa sua. È perché lui entrando al governo Draghi ha perso voti perché quella Lega le ha portate via tutti. L'ha detto proprio oggi. Ecco. Quindi qui non sono state trovate neanche delle semplici giustificazioni. Qui c'è un capo che non riesce neanche a capire, guardandosi allo specchio, che è lui il problema. Il problema non è stato entrare al governo Draghi. È lui il problema. Però il presidente di Regione del Veneto, Zaia, commenta così a Lanza l'esito del voto. Dice che è un momento delicato per la Lega ed è bene affrontarlo con serietà perché è fondamentale capire fino in fondo quali aspetti hanno portato l'elettore a scegliere diversamente. Ma non ci sono aspetti. Gli elettori hanno scelto diversamente perché il vostro capo politico è inascoltabile. Sì, no, forse, vediamo. In due anni ha fatto e detto di quelle cose da poter scrivere. Se avessi tempo scriverei Salvini, la caduta del capitano. Interessante, però non voglio perdere tempo a scrivere un libro su Salvini, insomma. No. Un leader dall'8% non è neanche interessante scrivere un libro perché non interesserebbe a nessuno. Va bene. Pertanto lui risponde io non ci sto. Lui dice io non mi dimetto. La Lega è mia. Me la merito, merito io. Buon dimotta. Va bene. Quindi pasta del capitano. Eh vabbè. Potrebbe fare... al posto che la pizzeria con Di Maio potrebbe potrebbe fare tipo un dentifricio. C'è già c'è ancora pasta del capitano, eh no? Pasta del capitano leghista. Da vendere nelle migliori regioni d'Italia. Eh? Quelle leghiste. Pasta del capitano leghista. Pasta del capitano Salvini Premier. Arrivederci a tutti e grazie.